La prima volta che la sezione ONU di Torino organizza un corso per esperti assaggiatori di secondo livello. Una settantina di partecipanti, una buona affluenza tra i nostri soci che hanno avuto modo in queste lezioni di imparare qualcosa di più sull'enneografia nazionale e di avere anche una panoramica sull'enneografia estera. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS